La mia storia alvece è finita. No, stavolta non è stato come tutte le altre volte. No, stavolta non è un grido di allupo allupo. Gino Corioni si sente stanco e solo. Questo da un po', con il baratro della Serie B che ha acuito il suo malessere, il suo disagio. Il vaso è colmo. Gino Corioni non ce la fa più. La città, ha detto ieri sera all'interno di parole di calcio, merita di più. E lui investire non può più. L'altra ricchezza è che siamo un milione e mezzo, che siamo una città che deve avere una società in Serie A, non per salvarsi tutti gli anni. Io ho fatto 20 anni di Via Cruci per il fatto di non essere forti finanziarmente. sei costretto a fare la Serie A come obiettivo salvezza. E se sei in Serie B devi necessariamente avere l'obiettivo promozione, cosa che io non ho più la possibilità di fare. Non è che io molli, non investo più di super, perché non posso. Non perché non voglio. Non posso, dovrò tirare i rivi in barca. E adesso? Cosa non sarà dal Brescia dipende dai Bresciani, non da me. La mia storia al Brescia è finita. La mia storia al Brescia è finita.